Primo video dell'anno, primo video del 2019 vado a rispondere subito a una domanda che in questi ultimi giorni mi è arrivata spessissimo con il nuovo anno, con il 2019, voglio iniziare a prendere lezioni di batteria perché mi sono reso conto che facendo da autodidatta eccetera eccetera non riesco ad ottenere i risultati che vorrei voglio essere eseguito da qualcuno ma come faccio a capire se l'insegnante che ho davanti è veramente una persona che mi può aiutare che mi può mandare avanti nel mio percorso e quindi mi può insegnare a suonare bene e anche velocemente se possibile allora, diciamo, una regola precisa non c'è per risolvere questo grande enigma però ti posso dire quali sono per me dieci punti fondamentali che nella scelta del tuo insegnante devi tenere sott'occhio quindi quando cominci a cercare un insegnante di batteria nella tua zona è importante tenere presente queste dieci cose che adesso ti dico allora, prima cosa, la prima su tutte l'insegnante deve essere una persona che suona in giro cioè deve essere una persona che pratica e a meno che non sia una persona strafamosa quindi un batterista strafamosissimo che ha magari un suo progetto musicale pazzesco e che quindi è dedito a portare avanti e suonare e fare concerti solo con quel progetto deve essere anche una persona con la quale è facilmente riscontrabile se suona e viene chiamato da altre persone a suonare quindi non basta che suoni per conto suo con il suo gruppo soprattutto se è un batterista non famoso ma deve essere una persona che ha nel proprio curriculum collaborazioni con altri artisti magari non famosi, non importantissimi, non mondiali eccetera eccetera ma comunque con altri artisti questo dimostra che la persona è una persona che ha delle competenze che vengono ricercate da altre persone, da altre persone che fanno musica altra cosa importante, se la persona che ho trovato, se l'insegnante che ho trovato è una persona giovane, quindi che ne so, al di sotto dei 30 anni devo andare a vedere se suona in giro, proprio se fa concerti quanti concerti fa durante l'anno quindi quanto mette in pratica ciò che in teoria mi insegna perché ti faccio questo discorso relativo all'età? perché se vai a lezione magari da un ragazzo di 20 anni, 25 anni magari questa persona è freschissima di studi, molto tecnici ma magari non ha ancora maturato quell'esperienza sia per trasmettere nella didattica sia proprio di maturazione musicale di maturazione proprio come personalità musicale eccetera e quindi non è detto che applichi, tra virgolette, sul palcoscenico ciò che magari viene ad insegnare a te con questo non voglio dire che non devi andare a lezione da un insegnante di batteria giovane anzi, nella maggior parte dei casi i giovani sono quelle persone che hanno magari più entusiasmo più voglia di mettersi in gioco di insegnare, di sperimentare eccetera quindi anzi, questo è un valore aggiunto ma la cosa importante è che quel giovane al quale ti sei rivolto sia una persona che comunque applica su se stesso le cose che poi ti dice a te quindi che ti insegna la cosa peggiore è che vai da una persona che in teoria sa tutto ma che poi non sale mai sul palcoscenico e quindi nella verità non sa se quello che ti dice è veramente così perché non lo sa neanche per se stesso quindi la cosa ideale è sapere che stai andando a fare lezione da una persona che applica quello che ti insegna cosa importantissima quando sei a lezione devi renderti conto anche se sei una persona che parte da zero ma comunque ci devi fare caso se il tuo insegnante è in grado di farti vedere quello che ti spiega cioè la musica non è teorica la musica è estremamente pratica quindi se hai davanti a te un insegnante che non si siede mai alla batteria che non ti fa mai vedere come si fa una cosa nella pratica allora è meglio che lasci stare perché vuol dire che quella persona in effetti non sa fare le cose che ti dice di fare dal punto di vista didattico un'altra cosa gravissima che mi è capitato di riscontrare in passato è vedere allievi nuovi che vengono che mi dicono che hanno già fatto lezioni con un insegnante mi rendo conto del livello tecnico al quale stanno e magari vedo anche che brani studiavano e quando gli chiedo ma scusa ma questo brano l'hai deciso di suonare te o ha deciso il tuo insegnante la risposta è no, ho deciso io e allora io chiedo ma scusa ma il tuo insegnante non ti ha detto che questo brano per ora per te è troppo complicato? no, ha detto che andava bene ecco questa è una cosa pessima cioè se vai da un insegnante deve essere lui a aiutarti a scegliere i brani che puoi suonare un po' come succede in conservatorio se vediamo la tradizione classica in questo ci insegna tantissimo cioè se noi iniziamo a studiare il pianoforte dico per dire e studiamo subito dei mega concertoni per pianoforte e orchestra già al primo giorno di pianoforte è molto complicato riuscirli a fare almeno che tu non sia un mega ultra talento cosa invece più semplice è partire con i minuetti di Bach le sonatine eccetera eccetera e negli anni andare sempre verso cose più complesse quindi come faccio a scegliere? deve scegliere il mio insegnante o quantomeno mi deve aiutare magari io sono un appassionato di rock quindi all'interno della branca della musica rock il mio insegnante mi aiuterà a scegliere quali sono passo dopo passo i brani che progressivamente potrò imparare a suonare in relazione a quanto sono tecnicamente musicalmente preparato quindi più vado avanti con la preparazione più salgono di livello i brani che il mio insegnante probabilmente mi proporrà la cosa peggiore è avere un insegnante che non ti sa guidare anche nella scelta musicale nella scelta dei brani da studiare un'altra cosa grave che spesso capita nelle scuole di musica in generale ma capita anche quando vai a lezione privata magari da un insegnante è che suoni su uno strumento che veramente è un giocattolo è un pezzo di plastica questa è una cosa grave perché è vero che non bisogna necessariamente studiare la batteria soprattutto se sei all'inizio con strumenti da super concerto di ultra qualità con legni stagionatissimi, pelli iper nuove assolutamente no però suonare su uno strumento che ti dia da subito un pochino la sensazione del suono di uno strumento professionale ti aiuta tantissimo in quelli che sono gli aspetti proprio della ricerca del suono del tocco che con uno strumento buono, buonino riesci a capire ed apprezzare durante la lezione anche perché il tuo insegnante ti aiuterà a capire ed apprezzare questi aspetti e quindi poi quando torni a casa a studiare comunque hai un'idea di com'è il suono della batteria di conseguenza a questo poi quando arriverà il momento che magari sarai pronto tu per comprare un tuo strumento magari acustico uno strumento un po' più professionale di quello che già non hai allora saprai scegliere meglio invece molte volte capita che un insegnante ti fa lezione su uno strumento veramente quasi di cartone e quindi tu in verità sì impari a dare i colpi a tempo a suonare a metronomo ma in verità non capisci mai una delle cose fondamentali che è la ricerca del suono della batteria magari non è un argomento che tratterai all'inizio se parti da zero ma è un argomento che prima o poi dovrai affrontare e se fai lezione su uno strumento pessimo questa cosa sarà un pochino complicata da capire altra cosa che secondo me è ultra grave è vero che l'insegnante deve farti vedere come si fanno le cose ma non è corretto, non è giusto ed è una cosa folle che l'insegnante a lezione suona più di te tu vai a lezione perché l'insegnante ti faccia vedere come si fanno le cose ma veda anche come tu le recepisci e come le metti in pratica quindi se durante una lezione suona più il tuo insegnante di te c'è qualcosa che non va altra cosa gravissima la musica in verità è un qualcosa che va affrontata sempre in maniera positiva in maniera creativa e con gioia e la cosa peggiore è incappare in quegli insegnanti che magari non sono riusciti ad ottenere con la musica quello che realmente volevano ottenere o peggio ancora hanno scoperto di aver dedicato tantissimi anni alla musica e poi non era effettivamente ciò che volevano fare nella loro vita queste persone sono estremamente negative e quindi a lezione comunicano negatività all'allievo ed è una cosa ultra iper grave perché? perché fondamentalmente se ti rapporti con una persona negativa che non ha ottenuto risultati per se stesso è comunque molto 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 complicato che riesca a far ottenere risultati positivi didattici, tecnici anche a te ok? perché probabilmente la sua visione del mondo musicale è estremamente negativa quindi te che magari con il massimo dell'entusiasmo vuoi prendere, partire e andare a lezione per imparare inizi questo percorso e vieni praticamente demotivato subito la motivazione è un fattore molto importante ed è fondamentale che il tuo insegnante sia una persona positiva in grado di trasmetterti cose positive e di farti apprezzare in maniera creativa e positiva la musica altra cosa importante secondo me è che un insegnante di batteria non deve essere un fenomeno su tutti gli stili sicuramente avrà una sua specialità, magari è più esperto nel pop, nel rock, nel funk, nel jazz però deve essere in grado di trasmetterti, di insegnarti quello che sono i punti di incontro tecnici e musicali di tutti gli stili musicali e deve essere in grado di insegnarti quantomeno i principi fondamentali, le basi fondanti di tutti gli stili musicali mano a mano che vai avanti nel tuo percorso didattico in modo tale da arricchire la tua cultura, soprattutto se sei una persona che parte da zero farti scoprire vari generi per farti scoprire, se ancora non lo sai, quali sono i generi o il genere che tu più apprezzi, che più ti piace e sul quale probabilmente magari più avanti andrai a approfondire il tuo studio e altra cosa per me fondamentale e che è la prima cosa che io cerco di insegnare a tutti i miei allievi è quella di imparare a leggere la musica leggere la musica è fondamentale per un motivo molto semplice perché ti velocizza l'apprendimento quindi, soprattutto se parti da zero, ma anche se sei già uno che suona bene ma magari non ha mai approfondito il fattore della lettura cosa abbastanza frequente tra i batteristi la prima cosa che devi chiedere al tuo insegnante è che ti deve insegnare a leggere perfettamente il solfeggio ritmico i pattern di batteria, quindi in generale devi saper leggere la musica non ti dico il solfeggio melodico perché quello magari è una cosa più di competenza degli strumenti melodici appunto pianoforte, chitarra, flauto, eccetera eccetera ma il solfeggio ritmico deve essere una delle prime cose fondamentali che tu inizi a studiare perché senza di quello il tuo studio è molto 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 più lento e quindi i tuoi progressi saranno molto più lenti di una persona che invece nella prima fase magari di studio impara a leggere e quindi dopo si trova tutto un percorso in discesa legato al fatto della lettura è importante che anche il tuo insegnante sappia leggere sembra una follia però ti assicuro che mi è capitato di sentire storie di persone che andavano a lezione da insegnanti che in verità non sapevano leggere la musica cioè suonavano tutto a orecchio questa è una cosa che dal punto di vista didattico secondo me è la morte ultima cosa che mi viene in mente e che però forse è una delle più importanti è che il tuo insegnante deve avere un programma didattico chiaro che tu puoi capire anche se parti da zero e non sai niente di batteria perché con un programma didattico è molto più semplice sia per te che per lui tenere sotto controllo i progressi e quindi sapere da dove si parte sapere quali sono le mete a breve termine, medio termine e lungo termine in questo modo sia te che lui avete una prospettiva di lavoro e quindi riuscirete a seguire meglio una tabella di marcia gli insegnanti che di volta in volta cambiano argomento non ti fanno fare un percorso olistico, organizzato sono i peggiori perché in verità alla fine ti dicono tante cose ma in verità te le dicono tutte male perché non perché siano sbagliate in sé quelle cose ma perché non ti stanno facendo seguire un filo logico che poi alla fine mette insieme un pochino tutto quanto il tuo percorso didattico e di apprendimento ok? con questo video ringrazio tutte le persone che nel 2018 hanno sostenuto il canale Drumstart mi hanno fatto domande, si sono interessati alla batteria e io vi assicuro che ce la metterò tutta per rispondere a tutte le domande che ricevo di didattica, di batteria eccetera eccetera anche nel 2019 anzi spero nel 2019 di riuscire a fare meglio se hai altre domande sull'argomento trattato scrivile pure nei commenti e ci vediamo alla prossima ciao! musica 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 Grazie a tutti.